Dunque vediamo come va a finire molti più medici, speriamo gli infermieri non sono più figure che imparano da sole, oggi c'è proprio l'università di scienze infermieristiche, speriamo di migliorare la sanità. Parliamo di Ragusa prima del nostro Cesare Bruchino, vi faccio vedere la foto del famoso monastero del Gesù, c'è una nota di fratelli in Italia che dice ma che fine ha fatto sto monastero? L'anno scorso dobbiamo finire a settembre e ancora ora siamo qui. Io credo che questo monumento sia uno dei più bistrattati della storia di questa città perché il monastero del Gesù negli anni, ecco lo vedete, questa è la parte diciamo dalla via, come si chiama, dalla parte libra, non quella di sotto che si vede ancora tutto combinato male. Però ci stanno lavorando da una vita, ci hanno speso sei o sette milioni, ci sono sempre contenziosi, è un lavoro della sovrintendenza, però non si riesce a concludere nulla. Luca poi domani dice ma non si potrebbe fare che il sindaco dica qualcosa? Il sindaco in questa cosa non c'entra niente perché sono lavori della sovrintendenza, eccolo qua. A parte la orribile torre rossa che è stata aggiunta lì da Scuto, Scuto, l'architetto Scuto che è a Ragusa senza offesa non ha fatto cose molto apprezzate, anzi. Allora sarebbe però possibile da sindaco di andarsene a Palermo e dire scusate ma noi non possiamo tenere questa cosa così per vent'anni, ha bisogno di sbattere i pugni, dice che il sindaco non è tipo da sbattere i pugni sul tavolo. Questo ce ne siamo accorti però il sindaco sa sempre come fare. E allora a proposito di sindaco la nostra rubrica del venerdì.